Musica Si sono appena conclusi per Stella Porugi i campionati regionali fiscani e lei è arrivata prima nel campionato assoluto Poni. Com'è stata questa esperienza? Bellissima, penso che sia. I percorsi sono stati abbastanza difficili, tecnici soprattutto, però li ho affrontati il meglio possibile. Il tuo Poni? Si chiama Dunes Beach Snaps, è irlandese del 2003 e è pezzato. È molto caldo, è difficile, però piano piano mi sto mettendo insieme. In quale centro ipi compiti? Toscana Equitazione. Chi è il tuo struttore? Cristian Pizzianti. Cristian Pizzianti, conosciutissimo, molto famoso, ma ha garanzia assolutamente. Ascolta, i prossimi appuntamenti per te quali saranno? Penso che farò qualche nazionale a Rezzo e non lo so ancora perché c'è tutta l'estate, poi farò i campionati assoluti Poni italiani ad Arezzo sempre a settembre. A settembre? Quanti anni hai? 14 anni. Come stai riuscendo a conciliare lo studio, la scuola e l'attività? È un po' difficile, infatti studio sempre di sera, anche dopo cena, però se è per lo sport faccio di tutto. La passione sportiva ti porta comunque a dei sacrifici. Se questo dovessi parlare o mandare un messaggio a altre ragazze della tua età, che cosa puoi dire dell'impegno sostitivo, come soddisfazione personale? Ci sono dei momenti bruttissimi che vorremmo dare tutto, però continuare sempre e provarci, perché provandoci si può riuscire a fare tutto. Ti ringrazio, sei stata gentilissima e ancora complimente. Grazie mille. Ciao. Ciao.